Piano dei rifiuti, scontro in Consiglio. L'opposizione accusa la Giunta di aver violato le regole ed abbandona l'Aula. La maggioranza ribatte, fanno solo ostruzionismo. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio, seduta movimentata, quella del Consiglio regionale dedicata all'informativa sul piano rifiuti. Prima dell'inizio della relazione dell'assessore all'ambiente Monia Monni, tutti i gruppi di opposizione hanno lasciato l'Aula in segno di protesta. Le minoranze ritengono infatti che la Giunta abbia violato l'articolo 48 dello Statuto regionale. Questo perché la Giunta ha avviato la VAS, valutazione ambientale strategica, in contemporanea e non dopo aver informato il Consiglio del piano, svilendo in questo modo il ruolo del Consiglio regionale. Ascoltiamo le dichiarazioni delle opposizioni una volta uscite dall'Aula. Come opposizione abbiamo presentato una questione pregiudiziale sul piano dei rifiuti perché ritenevamo e riteniamo che la procedura che sta portando avanti la Giunta sia sbagliata nella forma e nella sostanza. Dopo giorni in cui, rispetto a 15 giorni fa, c'era stato promesso un approfondimento anche tecnico che sciogliesse il nodo, ieri, prima del Consiglio, il Segretario generale in conferenza dei capigruppo ha detto che rispetto alle previsioni dell'articolo 48 i rilievi delle opposizioni erano fondati. Nonostante questo, il Partito Democratico ha voluto andare avanti, spinto da una delibera del Presidente Gianni, che, bontà sua, ha ritenuto di superare l'eccezione e i rilievi anche del Segretario generale, dicendo sostanzialmente che loro hanno ragione e non ritengono, visto lo stato dell'arte, visto lo sviluppo ormai della procedura, di poter tornare indietro e ripartire da capo. Da notare che gli indirizzi del Consiglio regionale dovrebbero arrivare prima che inizi formalmente la procedura. E invece il Presidente Gianni, lo ha ribadito ieri in aula, lo ha ribadito di fronte alle telecamere, considera ormai il piano dei rifiuti già avviato. La questione grave, gravissima, che ne è derivata con le parole anche del capogruppo Ceccarelli in Consiglio, è che il parere del Segretario generale, che è la massima autorità dell'ufficio legislativo che sta dietro ai lavori del Consiglio, sono state derubricate a autorevole opinioni, facendo prevalere quindi il pensiero dei dirigenti della Giunta sull'organizzazione interna del Consiglio. Si tratta di un ribaltamento dei rapporti di forza tra Giunta e Consiglio che per le opposizioni è inaccettabile e per questo motivo oggi abbiamo deciso di abbandonare l'Aula rispetto alla discussione complessiva del piano dei rifiuti, chiedendo al Presidente del Consiglio che naturalmente tuteli le minoranze, ma tuteli il ruolo stesso del Consiglio rispetto alla Giunta. Per la prima volta dopo un anno la Giunta ha ammesso una questione di fiducia, ha detto ai consiglieri del Partito Democratico, a prescindere da quello che il Segretario generale vi ha detto, cioè che esiste molto probabilmente una fondatezza giuridica sulla pregiudiziale, dovete votare questo atto, dovete venire oggi in Aula e votare l'atto della Giunta, perché se così non fate si va tutti a casa. Questo è il riassunto, una questione di fiducia sul quale tutti i consiglieri di opposizione hanno detto, ma qual è il problema? Certamente non stiamo qua né a scaldare le poltrone né a mantenere lo stipendio, siamo pronti ad andare a casa e siamo talmente pronti ad andare a casa che siamo usciti dall'Aula e abbiamo detto ai consiglieri del Partito Democratico, fate lo stesso. Lasciate la Giunta da sola, sfiduciate la Giunta su quella che è una questione tecnica, perché fra tre anni può darsi e ci ritroveremo col piano dei rifiuti, dove qualche magari consigliere o tutti i consiglieri o qualche cittadino che si sente leso nei propri diritti fa riconzaltare e quel piano viene annullato, annullando una pianificazione di tre anni, mettendo in discussione la serietà dell'ente legislatore del Consiglio regionale, che siamo noi stessi, cioè tutti i consiglieri, mettendo anche in dubbio che i contenuti di quel piano fossero corretti e che in Regione Toscana si fanno le cose per bene. Siccome per noi viene prima l'onestà intellettuale e anche l'onestà affattiva, siamo pronti a tornare tutti quanti a casa a ripresentarci alle elezioni, b a fare tutti i percorsi, come hanno detto bene i consiglieri prima, che riteniamo più opportuni per denunciare da un lato politicamente quello che è un vulnus che non abbiamo mai visto in quest'Aula, cioè il Consiglio regionale viene esautorato delle sue funzioni perché è la Giunta che ci dice quello che dobbiamo fare. Per noi diventa inaccettabile domani a chi ci rivolgeremo noi quando abbiamo una questione che riguarda il Consiglio e i consiglieri? Alla Giunta o al Segretario generale? Noi vogliamo ancora continuare a fare quello che facevamo prima e nelle scorse legislature, cioè rivolgerci al Segretario generale del Consiglio regionale, naturalmente non alla Giunta. E secondo tema, naturalmente quando vi sarà il momento entreremo nel merito dei rifiuti ognuno di noi con le posizioni, come ha detto prima bene la Presidente Galletti, diverse, perché abbiamo posizioni diverse, ma su un principio tutti quanti condividiamo il nostro stare in Consiglio, essere consiglieri regionali e rappresentanti dei cittadini, che se vi è anche soltanto un dubbio che le procedure non sono corrette o le procedure ci fermano o non avranno mai il consenso delle opposizioni. Il tema è uno, secondo me. A inizio di questa legislatura Eugenio Gianni disse chiaramente che lui voleva collaborare con le opposizioni. Ecco, sta facendo il dato opposto. Allora trasformi, infatti, quello che lui aveva promesso in inizio legislatura, perché in questo momento lui sta depauperando il Consiglio delle proprie competenze e dei propri diritti. Perché quando la Giunta arriva e si impone sul Consiglio, ed è vergognoso che qualcuno dica che il segretario generale dà delle opinioni, perché il segretario generale non è pagato per dare delle opinioni, il segretario generale è quello che garantisce il Consiglio. E arriva un dirigente di Giunta, che di fatto fa anche la parte del legislativo, e non è un legislativo, tra l'altro facciamo nome e cognomi, tanto è agli atti. Questo dirigente di Giunta è Edo Bernini, che è indagato sullo scandalo Cheu. Magari sarà innocente, però comunque, insomma, noi vederci bypassati da organi di Giunta, di cui in questo momento abbiamo anche qualche riserva, evidentemente non ci troviamo proprio a nostro agio. Se i consiglieri del PD sono felici di accettare di non contare assolutamente niente all'interno dell'assiste regionale, l'opposizione non fa la parte dello zerbino della Giunta. E quindi qui bisogna essere chiari. O ci danno delle informazioni, ci danno dei dati, ci danno qualcosa su cui lavorare, o altrimenti noi ad oggi non possiamo dire quali sono le azioni che faremo, ma sicuramente contrasteremo il piano dei rifiuti fino in fondo. Un vulnus che riguarda proprio l'equilibrio tra Consiglio e Giunta, che in questo momento si è totalmente disperso. Per quanto riguarda le iniziative formali, è chiaro che questo dovrà essere condiviso con tutti i capigruppo. È evidente che ci auspichiamo quantomeno che sia formalizzato il parere del Segretario Generale. Questo sì, perché per noi diventa importante certificare ciò che sta accadendo, che forse agli occhi dei cittadini può sembrare legato squisitamente a dinamiche interne. In realtà qui si tratta del rispetto della legalità, del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali, che non sono delle comparse in questo momento, ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal Consiglio, perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza, non si fa a colpi di atti della Giunta, che tra l'altro presentano anche profili di illegittimità. Detto questo, c'è un altro aspetto. Noi rischiamo di perdere il treno del PNRR. Il bando nazionale è in imminente scadenza. La Regione Toscana è in estremo ritardo sulla pianificazione. Questo è il dato vero. Quindi non solo c'è un problema di legalità, mettiamola così, ma c'è anche un problema di tempistica che non è da sottovalutare. In un colpo solo si è gravemente minata l'autonomia del Consiglio regionale rispetto alla Giunta. E facendo questo si è mancato gravemente di rispetto non a tutti i colleghi dell'opposizione. Ma si è mancato di rispetto all'intero Consiglio, quindi a quelli della maggioranza. E si è mancato di rispetto anche al massimo organo, al soggetto che rappresenta il vertice legislativo di quell'organo che è autonomo rispetto alla Giunta e che è il Segretario Generale. Perché così facendo, con una delibera emessa all'ultimo momento, si è in pratica detto che se la Giunta dice che l'iter procedurale che ha seguito va bene, praticamente se lo è autocertificata. E questo non è accettabile perché è lesivo non soltanto della dignità di tutte le persone che sono a Palazzo Panciatichi e che lavorano per cercare di produrre degli atti che siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza, degli abitanti della Toscana. Ma soprattutto perché così facendo si creano dei vunus legislativi gravissimi. Abbiamo appreso che le stesse modalità di esame di informative sono state utilizzate anche in passato. E ci è stato chiesto adesso che abbiamo consapevolezza che questo danno è stato fatto di continuare ugualmente con questa prassi che ormai era inveterata. E noi in coscienza e con un istante lettuale diciamo che questo non è possibile. E secondo noi non doveva essere reso possibile. Si sta dibattendo adesso in aula un atto senza le presenze delle opposizioni che hanno presentato degli atti di indirizzo, tutti molto diverse tra di loro, perché ciascuno di noi, Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ha posizioni molto diverse sui rifiuti. Ma sappiate che quegli atti di indirizzo che noi avremmo presentato sarebbero stati carta straccia, perché in realtà gli indirizzi sono già stati dati nel momento in cui sono stati presentati i bandi, già da mesi. Quindi significa che adesso noi siamo ridotti non soltanto denigrati dal punto di vista della dignità per cui la Giunta ci dice cosa dobbiamo fare come, ma addirittura quello che presentiamo è carta straccia, siamo dei passacarte per la Giunta. E questo è inaccettabile anche dal punto di vista della dignità e del rispetto delle persone che fuori si aspettano che in questo consesso siano illustrate, siano portate avanti delle iniziative che avranno effetti reali. Non ci sarà nessun effetto reale per il modo in cui è stato portato avanti. Quindi il nostro punto di vista è tecnico, politico innanzitutto. Questa quindi la voce delle opposizioni. Dal canto proprio la maggioranza ha espresso la convinzione di aver agito legittimamente anche sulla base dei pareri raccolti ed ha accusato l'opposizione di voler semplicemente praticare ostruzionismo. L'assessore Monni nella sua informativa ha indicato come obiettivi primari del piano la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, il miglioramento della raccolta differenziata, la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani, il risanamento dei siti inquinati e delle aree minerarie dismesse. Sentiamo adesso le dichiarazioni della maggioranza a partire dal presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Sono molto contento stamani l'approvazione del step molto importante del bando per il piano dei rifiuti e devo dire che il fatto di aver visto l'approvazione in un dibattito sereno con 25 consiglieri che hanno votato a favore rispetto ai 41 consiglieri che compongono il Consiglio regionale è stato un momento che incoraggia il lavoro della Giunta, il lavoro dell'amministrazione e dà al piano dei rifiuti una prospettiva e una strategia che può portare in Toscana l'autosufficienza progressiva senza dover fidarsi su quello che poi sono i trasporti fuori regione. Innanzitutto preme stigmatizzare l'atteggiamento della minoranza che si è sottratta dal poter dare le indicazioni e gli indirizzi che il Consiglio dà per la redazione di questo importante strumento di pianificazione e di programmazione. Abbiamo avuto la conferma che più che rilevare vizi procedurali il loro atto che è stato proposto ieri di pregiudiziale è un atto di carattere politico teso a strumentalizzare quello che è l'iter che stiamo seguendo per poter intralciare e quantomeno ritardare la redazione del piano e poi magari per poter dire che la Toscana non ha un piano dei rifiuti e delle bonifiche. Dispiace anche sentir strattonare quello che è il ruolo del segretario regionale che è tutta la nostra stima ma che non è chiamato a dare dei pareri di legittimità. Eventualmente come ben sanno o come dovrebbero sapere se vizi di congruità ci sono tra i regolamenti e lo statuto del Consiglio regionale che è stato richiamato dovrebbero essere trattati dal Collegio di Garanzia. Detto questo noi invece siamo stati al merito. Abbiamo preso atto della delibera di giunta che ci ha formalizzato di aver seguito correttamente nel rispetto di tutte le leggi e di tutti i regolamenti che sono gli atti che è andato a proporre al Consiglio. Nel merito noi abbiamo detto cose chiare apprezzando e ringraziando anche l'assessore per la sua comunicazione. La Toscana ha bisogno di anticipare quelli che sono gli obiettivi dati dall'Europa per quanto riguarda la raccolta differenziata e per quanto riguarda il riciclo e il riuso dei rifiuti ha bisogno di una dotazione impiantistica che la renda autosufficiente non soltanto come regione ma anche nei vari territori con un occhio anche ai rifiuti speciali che vengono prodotti dalle nostre aziende per dare quindi una risposta in termini anche di competitività e di bilancio ambientale ai rifiuti speciali che da lì provengono. Un'attenzione particolare alla sostenibilità delle tariffe perché le famiglie ovviamente soprattutto in fasi difficili come queste hanno comunque bisogno di non essere ulteriormente gravate. Nel percorso che si è aperto da questa mattina dalla collaborazione tra la Giunta e il Consiglio regionale sicuramente la Toscana avrà la dotazione di questo importante strumento di programmazione e pianificazione che sarà molto utile ai cittadini, alle imprese al suo sistema economico e sociale. Il riutilizzo dei rifiuti, la transizione energetica deve essere un elemento portante, il riutilizzo delle materie deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare e soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti, l'utilizzo delle aree industriali ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale. Pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione. Questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni appunto assunti con i cittadini toscani. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona sera.